Bonjour ragazze, bonjour ragazzi, benvenuti in un nuovo video, scusate la faccia stanchissima, ci troviamo ad Istanbul, questo è il nostro appartamentino e voglio farvi un room tour Siamo qui soltanto per un layover di 24 ore, quindi abbiamo dormito pochissimo per poterci godere quanto più possibile questa città meravigliosa in cui vi dico già che tornerò molto presto E abbiamo fatto scalo qui ad Istanbul sia all'andata verso le Maldive che adesso al ritorno verso casa, dalle Maldive, ho un sacco di materiale che vi devo postare dalle Maldive sia su Youtube che su Instagram Ma penso che vi caricherò prima questo video e poi tutti quelli delle Maldive, non avevo messo in conto di farvi un room tour da questo appartamentino, non l'ho scelto io che non avevo la minima idea di dove saremmo andati L'ha scelto Michael ed è talmente carino che voglio appunto filmarvi questo più che room tour, un mini apartment tour Questa è la porta d'entrata, qui ci sono alcune delle nostre valigie perché appunto stiamo già per ripartire purtroppo E con la porta d'entrata alle mie spalle entriamo in questo corridoio, adoro l'arredamento di questa casetta Sono innamorata veramente ed è esattamente lo stile che piace a me Questo è appunto il corridoio d'entrata Andiamo prima verso la stanza Qui c'è questo piccolo tavolino Portabiti, devo dire che c'è di tutto, c'è tutto quello che ti può servire, qui c'è Piccoli dolcetti, questa è la baklava Proseguiamo nel nostro corridoio Prima di arrivare alla stanza, dito di me c'è anche il soggiorno con la mini cucina Prima di arrivare alla stanza però entriamo e vi faccio vedere il bagno Eccolo qui Anche questo è molto molto carino Subito qui a destra c'è la doccia con queste piastrelle molto caratteristiche e moderne Non entro in questo momento perché è ancora bagnata Ma lì ci sono shampoo, balsamo e doccia schiuma Ed anche la spugnetta per lavarsi Subito davanti c'è il WC con questa cosa super caratteristica Che usano in realtà al posto del bidet in Turchia Ma anche in tanti altri paesi dell'Asia o dell'Arabia E poi qui subito sulla destra c'è il nostro lavandino Vi faccio vedere le cosine Sono le ultime cosine che ho portato che devo ancora impacchettare Le ultime cosine che ho utilizzato Qui ovviamente c'è il sapone E qui ci sono le mie appunto ultime cosine per la skin care Ho portato rigorosamente SPF 50 che ho utilizzato sia alle Maldive Ma sto utilizzando anche qui ad Istanbul E questo è di Iepoda È di SPF BFF appunto 50 Ma c'è anche la versione 30 Poi ho portato la mia crema occhi sempre di Iepoda Questa è la di Ice Cream È uno degli ultimi prodotti usciti di Iepoda E la adoro Ma lo sapete già ve ne ho parlato E questo è il terzo vasetto che sto utilizzando di questa crema Poi mini detergente Io adoro i mini size di Iepoda Mi salvano la vita quando devo viaggiare Così non devo portare tutto il flacone gigante E non devo rinunciare ai miei prodotti preferiti Perché tipo questo The Bubble Double Che è il detergente per il viso Ha un flacone enorme Quindi sono molto contenta di usare Di poter portare con me questo piccolino Calcolate che l'ho utilizzato per Quanto è che siamo stati via? Tipo 10 giorni E questa è la quantità che ho utilizzato Veramente ne basta pochissimo Perché fa tantissima schiuma Ma è super 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 delicato sulla pelle Quindi calcolate che il flacone grande vi dura secoli Veramente secoli Poi rigorosamente le mie creme viso Finalmente ve le faccio vedere entrambe in un video Che di solito vi faccio vedere una Vi faccio vedere l'altra Sono The Make My Day Cream Che è questa verde che utilizzo la mattina E The Midnight Magic Che è una crema notte In realtà è un po' più una maschera notte Che utilizzo sempre solo la sera Che è più nutriente Mentre la The Make My Day Cream È sempre molto idratante Ma è più leggera Altro prodotto che amo di Epoda È The Comban Questo è il mio balsamo struccante Lo conoscete già benissimo Solo che questo è il mini size Così non devo portare appunto tutto il pot Grandissimo che ho a casa E questi mini size tra l'altro Sono anche molto comodi Perché si possono ricaricare con i full size Che ho a casa Sono tutti Si possono tutti aprire e ricaricare E poi naturalmente Ho portato il mio The Repair Hero Questo è il siero alla Niacinamide Questo era finito Ma anche questo l'ho ricaricato Prima di partire Infatti anche questo è piccolino Vabbè io adoro i mini size E questo appunto Ve ne ho parlato molto spesso La Niacinamide è un ingrediente Chiave nella mia skin care Che mi aiuta a combattere E a togliere più che altro Per far sparire le macchie E le varie discromie Cicatrici dei brufoletti Eccetera eccetera Prima di utilizzare questa Le cicatrici dei brufoli Non mi andavano via per anni Questo è il mio segreto Per avere una pelle uniforme Altre cosine che poi ho portato E questo profumo L'Interdi di Givenchy Questo è naturalmente Il travel size Come sapete L'Interdi è uno dei miei profumi Preferiti di sempre Adoro sia la versione classica Che quella rossa E poi altro prodottino Che ho qui È il mascara di Charlotte Tilbury Il Legendary Lashes Che è quello che sto indossando In questo momento E poi niente Spazzola ed elastico per capelli Adesso devo mettere via Tutte queste cosine E impacchettare Cioè metterle nella valigia Perché tra una mezz'oretta Dobbiamo ripartire Verso l'aeroporto di Istanbul Tra l'altro Ho una promozione pazzesca Da comunicarvi Da Iepoda Che non è mai successa Fino ad ora Ed è una sorpresa Anche per me Perché non me l'hanno comunicato So soltanto Che c'è la Black Week E ogni giorno Dal 18 al 26 novembre Sul sito di Iepoda Ci sarà una nuova offerta Che appunto Non hanno comunicato Nemmeno me Quindi È una sorpresa Penso però Che saranno degli sconti Molto alti Quindi vi consiglio Se vi piacciono i prodotti Iepoda Di approfittare questa volta Perché nella Black Week Ci sono sempre Gli sconti più alti Vi lascerò comunque Il mio codice sconto In sovraimpressione Ed il link diretto Al sito di Iepoda Giù nel box informazioni Come sapete Questo brand Mi ha letteralmente Salvato la pelle Cioè in questo momento Io non ho trucco Non ho niente Ho solo l'SPF E ragazzi Tutte le macchie Di tutti i brufoli Che avevo Basta che andiate A vedere i video Tipo di due anni fa Prima che Due anni e mezzo ormai Basta che andiate A vedere i video Di due anni e mezzo fa Con tutte le macchioline Dei vari brufoli Che avevo Cioè no filtri Niente ragazzi Rendiamoci conto Chi ha la pelle delicata Come me Lo sa Che per ottenere Una pelle così Uniforme Non è facile E quindi Letteralmente Devo tanto 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 Iepoda Ed è per questo Che utilizzo Iepoda Non solo Quando vi devo Ovviamente parlare Del brand Perché ci lavoro Ma la utilizzo Nel mio tempo Libero Nel senso Che mattina e sera Anche quando non filmo Questo è il brand Che io utilizzo Sulla mia pelle E penso che questo Dica tutto Altra cosa Che voglio sempre Menzionarvi È la garanzia Di rimborso Totale Entro 30 giorni Che offre Iepoda E come vi dico Spesso Questo secondo me Dimostra Quanto sia serio E quanto questo brand Creda Nella qualità Dei propri prodotti Ed è una cosa Che appunto Secondo me Molti brand Dovrebbero imparare Da Iepoda Ma proseguiamo Con il nostro tour Adesso arriviamo Alla stanza da letto Finalmente Usciamo dal bagno E appunto Torniamo Nel nostro corridoio Di là c'è la porta D'entrata E qui sulla destra Finalmente La stanza da letto È uscito Anche il sole Stava piovendo Stamattina Et voilà Questa è La nostra stanza È stupenda E mi sono sentita Ci siamo sentiti Subito a casa Qui Allora il letto Comodissimo E anche Larghissimo Cioè È enorme E lo stile Mi piace Veramente Un sacco Lo conoscete Molto simile Allo stile Più o meno Che ho io a casa O che vorrei avere Diciamo Qui appunto C'è la mia valigia Già pronta Le ultime Cosine Qui Allora c'è L'accappatoio Poi qui Ci sono I Turkish Delight Che sono tipo Delle caramelle Gelè Buonissime Qui c'è Questo tavolino Con le due Poltroncine E vi faccio vedere Abbiamo la Sea View Sul Sull'acqua Che è Pazzesca E da quella parte In questo momento Stanno ristrutturando Ma ci sono Le rovine Antiche Della città Sempre la stanza Da un'altra Prospettiva Mi piace sempre Farvi vedere Tutte le stanze Da un sacco Di prospettive Diverse Qui c'è anche Una mini tv E poi Qui non vi ho fatto vedere C'è anche L'armadio Anche questo Devo dire Molto spazioso Adoro Indossare Gli accappatoi Negli hotel Con la cassetta Di sicurezza Et voilà E qui C'è Altro spazio Sulle mensoline Proseguiamo adesso Verso il soggiorno E la cucina E proseguiamo Appunto per il corridoio Arriviamo In questa stanzina Che è tipo Un soggiornetto Molto molto carino Con una piccola cucina Super super utile Che Ok non abbiamo utilizzato Perché siamo rimasti Troppo poco Ma vogliamo tornare E stare di più E quindi questo Tornerà molto molto utile Il soggiorno Secondo me È bellissimo Di nuovo Adoro Questo arredamento Molto moderno Ma classico E romantico C'è anche La tv Questa è più grande Rispetto all'altra Che avevamo in camera Questa è appunto La zona soggiorno Cucinino Con mini bar E qui all'interno Vi faccio vedere C'è Qua sotto il microonde Ci sono un sacco Di posate Piatti E cosine utili E ultima cosa Che vi voglio far vedere È la vista Anche da qui Perché Vediamo La Is that the blue mosque? Yeah Vediamo La moschea blu Purtroppo È un pochino coperta Dallo stabile davanti Ma Vediamo la finestra Così la vedete meglio È spettacolare Di là Si vede Anche il mare Questi sono I tetti Di Istanbul E tra l'altro Siamo appena stati A visitare La moschea blu Vi posterò Le foto Su Instagram E questo È quanto Per il video Di oggi Mia family Appunto Penso che vi posterò Prima questo E poi andrò Ad editare Tutti i contenuti Che ho Dalle Maldive Che appunto Sono veramente Tanti Ho fatto sia Video che foto Un sacco Un sacco Di contenuti Quindi spero Vi sia piaciuto Questo video Anche se è un pochino Improvvisato È la mia faccia E di qualcuno Che tipo Nelle ultime 24 ore Ha dormito 5 ore No Forse nelle ultime 48 ore Ha dormito 5 ore Quindi Vi mando un bacio Gigante Come al solito Non può mancare Il nostro abbraccio finale Quindi venite qua Che vi abbraccio Forte 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 E io vi aspetto Al prossimo video Che appunto Saranno i video Delle Maldive Ciao 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 Grazie a tutti.